Cari amici, grazie per essere qui, grazie per la pazienza, niente, volevo solo mostrarvi un fatto increscioso che è successo ieri sera, cioè è stato visto ieri sera, non so quando sia stata postata perché non ho ricordanza, ma una mia amica, ieri mentre stavo facendo un corso, mi ha inviato una sorta di screenshot, anzi senza una sorta, uno screenshot dove, anzi ve lo mostro, dove una certa domitilla mi dà del magnaccia, mi dà del magnaccia, vedete già casualmente si sono incontrate in Toscana la società dei magnaccioni, Sebastiano, Covalero, Castellano e Marotta, la premetto subito che io nell'ultimo periodo non mi sono incontrato con nessuno dei tre, soprattutto non mi sono mai incontrato con Castellano, mi piacerebbe incontrarlo per farci due chiacchiere, ma mai mi ci sono incontrato, con Covalero e Sebastiano, sì l'anno scorso, due anni fa addirittura, ci siamo visti, ma poi non abbiamo avuto, se non qualche telefonato, tra l'altro Sebastiano ha telefonato anche durante la mia trasmissione, non l'ho mai più incontrati, quindi questa già è una bugia, va bene? Stato di fatto però, a parte la bugia su quale posso soprassedere, vi è anche un'offesa, mi viene dato di magnaccia. Mi sono consultato con il mio avvocato, con il quale abbiamo optato per denunciare, il fatto, perché questo è diffamazione mezzo stampa, a me mi dispiace, è capitato questa persona, magari poi nel futuro un giudice dirà di comportarsi meglio, non sono certo io a dover giudicare chissà chi, quindi come la legge prevede, porterò questo screenshot sia dalla polizia postale che in procura, dove verrà dato in mano un giudice, il quale giudicherà il comportamento, se trattasi o no, di diffamazione con una relativa sanzione, se vi sarà. Io ve l'ho voluto comunicare, vi dico sempre, state attenti quando offendete, non, come dire, non siate certi che, siccome avete un nick su YouTube, Facebook o Instagram, che nessuno vi possa trovare. Io spero, auguro del bene a tutti quanti, ma soprattutto che tutti quanti imparino prima o poi a stare al mondo, perché insomma alla fine poi qualcuno che si arrabbia, uno lo trova, no? Io vi ringrazio, vi saluto la tromba con il muto, aspetto una vostra, che poi ho notato, ora questo è un po' scritto, ma ho notato che soprattutto nel caso di Liliana ci sono tante persone che si nascondono dietro i nick per offendere, perché non mi telefonate, non mi mandate a quel paese, perché nessuno lo fa? Vi saluto con la tromba con il muto, un abbraccio.